Il salotto della civetta con Davide Pelanda Buongiorno a tutti e bentrovati al salotto della civetta. Io sono Davide Pelanda, trasmetto da Caffè Italia Radio. Oggi parliamo di un argomento molto drammatico che molti non ricordano oppure sono stati praticamente nascosti. Parliamo dei cinesi internati in Abruzzo. Faremo qualche puntata su questo argomento. Sono stati oltre 100 i cittadini cinesi che a partire dal giugno del 1940 furono sottoposti a domicilio coatto dal regime fascista. Tra loro appunto anche un padre francescano che dopo l'8 settembre si mobilitò a favore dei prigionieri alleati. Questo lo troviamo su www.storiain.net E' un articolo di Vincenzo Grienti del 2015. E' un capitolo, dice lui, della storia della seconda regola mondiale, originale e poco conosciuto. Quello relativo a 116 cinesi internati a Isola del Gran Sasso in Abruzzo. Un capitolo che merita di essere ricordato non solo perché la vicenda in sé è triste, ma anche perché alcuni di loro con l'armistizio dell'8 settembre del 1943 aiutarono gli alleati contro il nazifascismo. Tra questi anche padre Antonio Chang, un francescano giunto da Assisi per sostenere moralmente e spiritualmente i propri connazionali. Lo leggiamo appunto in questo articolo. E la storia inizia, dice sempre Vincenzo Grienti, con l'arrivo in Italia di alcuni piccoli imprenditori cinesi negli anni 30, come Yang Li Ching, un commerciante giunto a Milano nel giugno del 1939, con un lascia passare rilasciato dall'ambasciata cinese. Oppure come Chu Chai, cittadino cinese trasferitosi a Bergamo di professione venditore ambulante. Sono solo due dei 116 cinesi che, proprio per la loro nazionalità, dopo lo scoppio del conflitto, furono internati da regime fascista a Isola del Gran Sasso, in Abruzzo, presso il santuario di San Gabriele della Dolorata, retto dai padri passionisti. L'unica loro colpa era quella di avere il passaporto cinese e di trovarsi nell'Italia fascista, alleata del Giappone con l'asse Roma-Berlino-Tokio, e di conseguenza anche lei nemica di quella Cina con cui l'impero del Sollevante era in guerra dal 1937. I cinesi internati a Isola del Gran Sasso, dice sempre Vincenzo Grienti, lavorarono sotto stretta sorveglianza e dormivano nel Camerone, dove doveva servire da alloggio per gli internati politici, come si legge nei documenti di archivio presenti presso la biblioteca dei santuari di San Gabriele della Dolorata, custoditi con cura dai padri passionisti. E ancora, dopo la firma della mestizia dell'8 settembre 1943, i prigionieri inglesi evasi dai campi di concentramento italiani si diressero verso la linea del fronte, nella bassa Italia. «Molti di loro furono ospitati nel santuario e aiutati dai cinesi», spiega il professor Enzo Orlanducci, presidente dell'Associazione Nazionale dei Reduci della Prigionia, dell'internamento, della guerra di liberazione e i loro familiari. Tra i cinesi, anche i padri di Antonio Chang Chang, un frate francescano, dicevamo prima, cappellano del campo di concentramento di Isola, che dal 1941 sosteneva moralmente e spiritualmente i suoi connazionali. La sua attività pastorale non venne meno neanche in quelle circostanze, ricorda Vincenzo Glienti sul sito www.storia.in.net. Basti pensare che 40 di essi ricevettero i sacramenti il 4 agosto del 1941. In quella occasione fu il nunzio apostolico Francesco Borconcini Duca a presiedere la prima comunione e la cresima, come riportata in prima pagina dall'osservatore romano del 4-5 agosto 1941. Ma padre Chang aiutò soprattutto i suoi connazionali sotto il profilo umano. La stessa umanità che non lo fece esitare nell'aiutare i prigionieri britannici che cercavano di raggiungere la linea del fronte, mentre i tedeschi lasciavano le loro posizioni con l'avanzata degli alleati. Per questa sua attività, il 27 novembre 1943, padre Chang cade in trappola allestita dai tedeschi che si spacciarono per prigionieri inglesi. Dichiaratelo in arresto, i tedeschi perquisirono la camera di padre Antonio Chang e qui trovarono, oltre a un apparecchio radio ricevente da una macchina fotografica, anche una rivoltella, come si legge nei documenti di archivio custoditi presso il santuario. Il religioso fuorre stato e condannato alla fucilazione, inutili i tentativi di salvarlo da parte della diplomazia della Santa Sede. Come si può leggere nelle corrispondenze che l'allora annunzio apostolico in Italia Monsignor Francesco Borroncini, duca, e il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, padre Beda Maria S., aveva scritto. Anche Monsignor Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, Allora sostituto dalla segreteria di Stato, fu messo a conoscenza della vicenda, senza però riuscire a risolvere la drammatica situazione. Tuttavia, proprio quando stava per essere sottoposto a condanna capitale, un bombardamento alleato lo fece scampare a morte sicura, un vero e proprio miracolo che padre Chang attribuì sempre a San Gabriele. Con questa prima puntata su questo argomento dei cinesi internati in Abruzzo, Davide Pelanda vi saluta e vi augura una buona giornata. Alla prossima puntata. Il salotto della civetta, con Davide Pelanda.